Musica Ciao ragazzi, sono da 6 e benvenuti a questo nuovo episodio di RetroCraft Allora, prima di iniziare voglio farvi vedere un attimo che qui manca energia Perché, non capisco manco io il perché, si è scomparso un piccolo timer Presumo sia stato Alessio quando abbiamo fatto il live stream Quindi Alessio verrà picchiato prima o poi Comunque, no invece no, non eravamo nel live stream ma stavamo giocando normalmente, è vero Quindi dovrò picchiare Alessio prima o poi Allora, oggi abbiamo un po' di obiettivi Uno dei quali è finire gran parte della IC2 Anzi direi che è finire tutta la IC2 Infatti andremo a creare un paio di, diciamo, attrezzi delle IC2 per completare il tutto Come abbiamo fatto una wrench, abbiamo la diamond drill, abbiamo il backpack, abbiamo un paio di robe Allora, voglio un attimo completare il tutto creando gli altri rimanenti oggetti Allora, un attimo, spostare queste robe qua Ottimo E faremo anche cosa di bello, ovvero un paio di red matter Ce ne servono in circa 20, tipo Boh Una ventina comunque Andiamo qua, facciamo Tadan Ok, presumo ci voglia questa No, come si faceva Come si faceva Ah, ok, sopra Benissimo Red matter Poi Spogliamoci un secondo Che bello che siamo tornati normali Red matter Questo Ok E per finire Questo Uno, due E messo un altro due Ok, quindi in tutto era 25 Uno, due Ottimo Siamo in assenza di energia, peccato Tranne per il fatto che devo ancora ricoprarle tutte Ma dettagli Ok Finalmente siamo tornati a diventare Siamo tornati a essere rossi Ottimo Mi piace di più questo, sinceramente Poi figa Ottimo, adesso siamo anche immortali Giusto per dirvi Possiamo andare dappertutto Possiamo fare tutto ciò che possiamo E vogliamo Senza limiti Ok, ne ho preso uno in più Non ho preso, strano Ottimo Allora, abbiamo tutti questi E quindi Prima di tutto Torniamo all'ultima pagina E andiamoci a craftare Iniziamo con le cose più semplici Allora, l'accenso Ci serve un electronic circuit Una batteria Un paio di robe, insomma Noi recuperiamo un paio da qui Uno di questa E una batteria Spero li crafti Perché sarebbe la cosa migliore da fare Però In caso contrario Dovremmo farla a mano Sapete quanto ci voglia Farla a mano L'acce in su È abbastanza semplice Mi servono anche Tre, cinque Cinque di questi Che troviamo subito Ok Ottimo Andiamo a vedere un attimo Se ce li porta Oppure no Presumo che non ce li porterà mai Perché È stronza il coso Cioè Sono un solo auto crafting Ottimo Quindi Probabilmente dovrò andare a cercare Qui dentro E li troverò State nei certi Ecco Vedete Uno va qua Non so perché E qua invece La batteria L'ha craftato No Non ha craftato Un pezzo di copper Che presumo Si sia fermato A qualsiasi altra parte Copper 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 Eh Dove si è fermato Sto copper Bah Oggi Fai straordinari Mi sembra Dovremmo avere Un filo di copper Qui dentro Giusto No Sbagliato Non ne abbiamo Dove è finito Assurdo Scompare all'improvviso Se sei un copper Il copper perduto Dove sarà scomparso Mai E Dada Dada Ci serve per forza Un filo Ok E lo craftiamo E che devo farci Eh ma se non sbaglio Ce l'avevo lì dentro Vabbè Ok E Un filo di copper Copper cable Uno Vediamo un attimo Se arriva su In caso contrario Dove è variare comunque da qua Eh no Dove li crafti Copper cable qua Ottimo E Eh Boh Ok Quindi Abbiamo 7 di questi Però non abbiamo Copper cable Eh Niente Non me sta craftando Vabbè è stupido Facciamo così allora Abbiamo le streame Se mi rimedi Facciamo Il metodo Ulisse 3 3 3 di copper Va 1 2 3 1 2 3 Benissimo Craftiamoci la mano Allora Ok Inseriranno comunque altre batterie Quindi meglio farsi un bel po' Di questi Copper cable Benissimo Quindi Eh La batteria Giusto Dobbiamo farcela Oi Tadan Ok Dovrebbe arrivare Se non sbaglio Sopra O sotto Ora non lo ricordo Ah no vabbè Si fermirà sicuramente Nel nostro solar panel Ma c'è qui Ottimo Quindi non arriverà da nessuna parte Come Come solito insomma Un attimo Giustare questo impianto A ogni costo Ok Abbiamo qui l'accenso Che non si può fare Per adesso in diamante E serve per tagliare gli alberi La Eh Diciamo Le metteremo Sopra di energia Però A me non interessa Dobbiamo tanto craftarli Perché Per completezza Voglio farlo Eh Poi Mini glaser Abbiamo un advanced circuit Energy crystal E Questo altro serviva Ah vabbè Quattro di questi Advanced alloy Questi li possiamo fare Senza problemi Quindi boom Ci serve Un paio di redstone Dovremmo averne Abbastanza Uno di quello Ce l'abbiamo pure Due diamanti Diamanti Ok Quelli qua Abbiamo davvero pochi di diamanti Due diamanti E alloy 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 Che dobbiamo craftare Presumo Perché non ne abbiamo proprio Ah forse no Abbiamo dentro la borsetta Bianca Non mi ricordo Se ce ne sono altri Oppure Finto tutto Eh no Li abbiamo usati tutti Ah ci sono lì dentro I I così belli Eh C'è la toolbox Qui dentro Presumo di sì Eccola qua Toolbox Ok Cinque rifiniti E una cesto Cinque Ok Una cesto Cesto Dovremmo averne alcune Ecco Tanto una Non ne serve A posto E Ci serve quindi fare Questi due di diamante Ok C'è di Di redstone Ottimo E Poi Ci serve anche Farmi Dove sono Quattro di questi Ok Mixed metal Quindi Noi in questo modo Facciamo così E abbiamo Il nostro toolbox Con cui facciamo Tasto destro Shift Tasto destro Shift Vedete Ci serve tutte le cose Che mi interessano Ora Mi serve una cesto Veloce veloce Per scherzare la roba Che non Non mi aggrada Ed è molto carina Come la cosa del toolbox Perché Guardate Tutti gli oggetti Che non mi interessano Dentro La vostra Cesto Senza problemi Quindi toolbox CG Ok Ah giusto Qua dobbiamo Mettere dentro Il compressore Singularity compressor Uno Due Tre E quattro Benissimo Andiamo qua Uno Uno Due Tre E quattro Se non sbaglio Uno E due Uno di questo Ehm Com'era Questo qua Ehm Ah ok Dovevo scendere un attimo E Tadana Abbiamo uno Sto Bell Meaning Blaser Ora abbiamo Abbiamo abbastanza Energia Per Tutto Però Comunque Possiamo iniziare a recuperare un po' di energia Questo Mini Glaser Quindi adesso Come funziona E' un mini drill Però molto più figo E più veloce E più figo Di normale Drill Faccio vedere un attimo Come funziona Dobbiamo farlo Questo lato Questa è la parte Semplice Con la V No con la M Se non sbaglio Contro la Eh no M tasto Come era Allora comunque vedete Adesso va così Dovo ricordarmi Tasto per Farlo funzionare meglio Ed è molto utile Per scavare Non da nessun problema Ma Spreca un bel po' di energia Quindi fate attenzione Quando lo usate Tutto il fatto di tenere in mano Perché potrebbe Far scoprire tutto Sì probabilmente Ok Quindi abbiamo questi due macchinari Adesso Questa wrench La possiamo anche buttare Perché oggi Andremo a fare La auto Di la L'electric wrench Che Diciamo Ce l'è molto più figo Della normale wrench Ok eccolo qua Eh Il tritup sono bello L'avevo già fatto L'electric Oppure no No Presumo di no Abbiamo bisogno di un altro Electronic circuit E una batteria Ok Facciamo così Richiamiamole a mano Quindi Mi servono Una decina di tin Qui dentro E poi qui dentro Dovremmo avere Un paio di cavi Ottimo E Dobbiamo avere Del tutto Anche sotto Qualche piccolo Electronic circuit Che c'era avanzato Dalla scorsa volta Come ho già detto Ok Eccolo qua A posto Boom Passiamoci Eccola la tin Quindi Una batteria Per ora Anzi C'erano i due Tanto Devo fare Comunque Il tritup Ottimo Benissimo Uno di questo Più questo E se non sbaglio Serva comunque Una wrench Che dovrò fare Ad ogni costo Quindi mi servono Sette Di Questo bronzo Ottimo Poi per il tritup Serviva al stesso modo Un tritup normale Quindi vediamo un attimo Se Ricopriamo Giusto un po' di legna Quindi cinque di legna Ottimo Quindi Mano Uno due tre Quattro cinque Sei Mi raccomando Prendete questa E non l'altra Erano sei Non erano sette Vabbè Colpa mia E abbiamo la nostra Electric wrench Mettiamola qui Qui ci facciamo anche Un tritup Bene Un tritup Più batteria Più questo E abbiamo Un electric tritup Benissimo Quali altre cose Ci mancano Nella nostra Piccola via Abbiamo fatto Questi qui Le ovvie scanner Sono abbastanza inutili Potrei anche spiegarveli Però sono abbastanza inutili La nano saber Giusto Una delle cose Più importanti Di minecraft Quando non c'è la red power C'è la red matter Allora ci servono Un paio di questi Cosi Cold dust Ci servono Tipo 16 Sì Penso 16 Ottimo E ci servono Anche Due di questi Benissimo Arrivano i nostri Cold Qualcosi Qualcosi Va Ok Quindi in questo modo In questo modo Abbiamo un raw Carbon Cosi E abbiamo Carbon mesh Vediamo se riusciamo a beccarlo No Quello è l'electrolyder Non c'entra Ok Ci mettono sempre nel compressore Come vi ho già spiegato E ci danno il carbon plate Poi ci mettiamo anche il mixed metal E Tadan Quindi Poi cosa ti serviva? Mi serve niente? Ah Giusto Un diamante C'è male 8 di redstone pure Che figata Siamo proprio scurati oggi E Avremo Ok Carbon plate Due di questi Ce l'abbiamo già Prendiamo un attimo Queste redstone 1 2 3 4 5 6 7 E 8 E un Energy crystal Energy crystal Che ho messo qua Con questi due qua E queste due Bellissimo Nano saber Cos'altro 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 Presumo che non Non ci debba essere altro Perché qui Ogni volta che arriva qualcosa Deve macerarlo pian piano What the fuck Presumo che dietro non ci si arriva Maybe L'ho eliminata probabilmente Nel Nello straccello Qualcuno è stato A fare il macello Nella mia stanza Ne sono sicuro Cioè 100% Ok Nano saber Per quanto riguarda La quantum E la nano suite La vedremo Nel live Dopo Il nostro Backpack Doveva esserci Lepack Che c'è qui Anche CF backpack Però è abbastanza inutile Ve lo spiegherò In live Questo Cosa serve Ma più che altro Nella versione Di olisacraft Allora Vi bisogna un bel po' Di lapislazzoli Quindi 9x7 9x6 Scusate Che sono 9x6 54 54 Ok Ottimo 54 Poi Vediamo cos'altro Ah L'electric How Giusto Anche questo È utile E quindi Se avrà Una batteria Ancora Però questa Lasciamola Abbastanza inutile No Devo farla per forza Colpa mia Abbiamo bisogno Di un attimo Di I cavi Li abbiamo Mi sa Si c'è I cavi Ce l'abbiamo Quindi Tin tin Ci servono Due redstone E due tin Due redstone E due tin Ah e poi anche Due electric No c'è Abbiamo electric Ok Uno due Uno due E dove sono I nostri cavi Eccoli qua Ok Questo più uno di questo E poi per finire Due di questi Benissimo Anche la Who è pronta Facciamoci In questo Mone Sì Facciamote Sei blocchi Uno di questo E poi sotto Il backpack Giusto Ricordo Si Ok Tadam L'appack Contiene tipo Sei volte La quantità Di un normale L'appack Quindi molto molto Utile Guardate che Adesso sta un attimo Riprendo l'energia Benissimo Cos'altro Rimasto Il nostro piccolo Design Come fare Del dark coffee E lo vedremo però Nel prossimo episodio Perché ci vorrà Un bel po' di tempo Per la crescita Di questi Piccoli Semini Che poi vi spiegherò Come funzionano Sono molto molto belli E Basta Quindi abbiamo tutto Possiamo Rilasciare Un paio di robe Qui dentro E Con il nostro Toolbox Adesso Quindi così 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 Dobbiamo fare in modo Qua Qua E qua A posto Mettiamoli tutti là Abbiamo tutto Benissimo Tasso destro Tadan Toolbox Ok Adesso abbiamo tutti Toolbox possibili Immaginabili E quindi Siamo pronti A fare tutto Ciò che vogliamo Io direi Facciamoci anche la pala E questo Però quello Nella prossima puntata Perché non ci vuole Al momento Ok Va bene Ottimo Quindi Passiamo invece Adesso alla seconda parte Della puntata Ci serve Un condenser Allora Non questo Ci serve questo E basta Ok le api ci servono Anche Per dopo Se riusciamo Seconda parte La puntata Abbiamo bisogno Di Farci Un Un condenser Ottimo Benissimo Poi abbiamo bisogno Di No Quanti ne abbiamo bisogno Di condenser Due tipo Si penso due Ne ho bisogno Un piccolo Collector MK2 Ottimo Una stanza buia Quella possiamo fare Semplicemente Ricoprando un attimo Un paio di Di dirt Anzi Mi serve la dirt Quella più figa Solo che Avete bisogno Di sick touch In quel caso Come faccio A farlo Con sick touch I don't know Devo vedere Come fare sick touch Potrebbe essere Un po' complicata La faccenda Vabbè Dovrebbe crescere Comunque L'erba Anzi No Possiamo fare Comunque Ovunque Vogliamo Basta Che lasciamo La parte di terra Sotto Ok Prendiamo Tre spazi Di questo E Ci sono Poi Dei cavi Di red Di ingot Questi qua Questi ingot Quattro E del vetro Del vetro Del vetro Che dobbiamo recuperare Opla Vetro Una decina Va Prendiamolo Ottimo Quindi così Così A posto Pneumatic tube Abbiamo tutto E Penso che non ci sia Valtro Al momento Cioè abbiamo Tutto ciò Che ci interessa Riloggo Giusto No Non riloggo Lascio stare Allora Questo Ci serve Adesso Soltanto Il Dei piccoli Macchinari Abbastanza semplici Red power Che però Dovevo trovare Perché Non ricordo Il loro nome Che sono Qui Il Transpuser Benissimo Ci serve Allora Non un Transpuser Prima Un Deployer Arrivo Sulto Ragazzi Ok Rieccomi Allora Vi stack Ci serve Un Deployer Ok Rieccomi Allora Dicevamo Ci servono Un po' Di queste Robi Ci serve Un Transpuser Un Deployer Quindi Dei pistoni Ci servono Un pistone Sola Piston 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 Eccolo qua Ottimo E Traspuser Come si fanno Pistoni Sempre Ok Pistoni E legno Ci serve Quindi Una trentina Di questi No Trentina Di pistoni Sono un po' Troppi Cinque Pistoni E Cerca Uno stack Di cobblestone Vabbè Anche se ce l'abbiamo Un pochetto Ok Ecco i pistoni Che arrivano Quindi un pistone Poi Ok Questi 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 Un pezzo Di redstone Ci serve Pure Quindi un po' Di redstone La prendiamo La mettiamo Qui dentro Ok Opla Opla Redstone E quindi Abbiamo un Traspurso Abbiamo un baglio Di traspurso Che abbiamo bisogno Oh io ho capito Allora Penso che tre Vadano benissimo Quindi Uno Due E tre A posto Poi E ci serve Un deployer Deployer Che si fa Con una chest Chest Eccola qua E Il resto Come è fatto Tutto di cobblestone Sì Vabbè Un pezzo Sempre di Di cosola Per rimarcare Il fatto che c'è Ok Chest Benissimo Deployer Vediamo tutto ciò Che ci serve Sì Ottimo E Lo facciamo In circa Qua Vediamo un attimo Deve andare Io preferirei Farlo un po' più lontano Da casa Qua per esempio Sarebbe ottimo E Utile Devo sposare anche Quei cosi Ma poi Raggio è poco Quindi non voglio Farlo troppo grande Ok Così Benissimo Dobbiamo fare Una piccola stanzetta A buia È vero che Dovevo fare All'inizio Di Della E Però Visto che Voglio rendere Il tutto Come già detto Completo Lo faremo Anche se Non Diciamo Necessario Al momento Perché Sicuramente Questa Possiamo farla Come già detto All'inizio Della nostra Avventura E E3 E2 2 Perché Ormai Non ha già Andato un bel po' E ma Dettagli Basta così Presumo Si Spacchiamo qua Ok Possiamo farla così Basta Si tanto non è che Ci interessa Che sia alta O no Tanto non ci entrerò mai Dentro Ok Allora È Larga 2 4 6 Per 2 Apprendiamoci No Facciamola Poglio di torce Mi servirebbe Sicuramente No Qui Mi serviva Cavolo Un attimo Che scaviamo Un po' Di qua Ok E di qua Ci entrerà Il bone meal Che sarà posizionato In questo modo Quindi qua Collector Qua mettiamoci Uno di questo Un condenser Ottimo E Lui Prenderà La roba Di qui Ok Va benissimo Così Dovrei Entrare In qualche modo Quindi Proviamo un attimo A salire Ottimo Questo è il punto Giusto? Si Quindi ci mettiamo Uno di qua Uno di qua Uno di qua E E basta Direi che Abbastanza Per ora Quindi In queste parti Uscirà invece La roba Che verrà Poi smistata In quello Che vogliamo noi Principalmente A noi Serverebbe Il diamante Ma Nel caso Specifico Adesso Non proprio Ci serve Abbiamo un paio Di robe Ci serve Un filtro Ci abbiamo Già No Abbiamo un altro Deployer Caso Ok Possiamo farci Comunque Un De Traspuser Senza problemi Tanto comunque Ci servono Potremmo un attimo Le nostre api Prima Ok Vedete che C'è la meadows Qui ho fatto Le altre api No Questo è forest queen Qui c'erano altre Piccole cose L'honey Sta arrivando Qua dentro Va bene Questo però lo vedremo Principalmente live Quando voglia Perché le api Che ho già detto Non ne voglio trattare Così tanto Attentamente In quanto Sì sono interessanti Però Richiedono molto Molto tempo E parti Delle episodi Perché Non è Bisogna andare A scoperta Di molte robe Quindi due Due Ok Così E una redstone A posto Due Traspuser E Quei condenser Ci serve poi Un diamante E un Bonmill Diamante Ok Bonmill Bonmill Eccolo qua Tadam Ok Dovremmo essere Tutto a posto Ah ci serve anche Un timer Ci serve E Ci sono Due stick Quindi Ok Facciamo un paio Di queste Redstone Torch Ottimo E Due di questi Due Tre di questi Ottimo Un paio Di questi Koa Possiamo fare Direttamente a qua Ottimo Qua ci velocemente Caro Blue Electric Fournays Uno Due Tre A posto E Andiamo qua Ci siamo Uno di queste E Qui Dove la mia Piccola cosa Eccola qua Ok Uno di questi Anzi due di questi Poi Due di questi Uno e uno A posto Andiamo qua Pointer E Cathode Ottimo Eccola qua E Dovremmo avere qui dentro Dei cavi Vero Sono bene Non li abbiamo finiti tutti No Li abbiamo finiti tutti Siamo scemi Ok Un due tre A posto Quindi Torniamo alla nostra Piccola Stazione Stanza buia Vi spiego il meccanismo La stanza buia Permette Si Cioè fa si Che Il nostro Deployer Che funziona da Deployer In inglese Però Da Non mi viene un termine Italiano Al momento Comunque Da stimolatore All'entrata Di Un qualcosa Ok No Ce l'ha Qua Ok Ottimo Dicevo Da Buffer In questo caso Si Buffer Buffer Potrebbe essere utile Funziona da buffer E ci permette Di fare entrare Dentro Il bombillo Ok Che noi Facciamo uscire Sicuramente Il nostro Traspuser Avete capito Bene Ok Quindi Facciamo questo Modo Ok Facciamo Modo Di qua Ottimo Ci sono un cacciavite Ok Ottimo Possiamo spaccare Stavarte Almeno Ok Ottimo Quindi Come vedete Qua Adesso Entra Potremmo Farlo Anche sopra Beh Facciamo Più Compatto Ragazzi Ok Così Benissimo Vedete Che fa Così Ottimo Ok Di qua Quindi prende Il nostro Bombil Che lo crea Che sta creando Perché lì Ah giusto Non c'è Luce Cavolo Abbiamo un attimo Un paio di Di cose qua Ok La Portable Portable No Table Eccola qua È vero C'era una ragione Che c'era la Transmutation table Portatile E Mi ne ho dimenticato Che c'era Quindi dobbiamo Prenderla E Dovremmo Prendere Anche Un paio Di Di robe Ah di Quale è riuscita Vabbè Ora Al momento Abbiamo un po' Di buoni Quindi Lasciamolo Stare Faremo Una costruzione Del resto Ah Ho preso Tanto uno Abbiamo preso Vero Ok Ricopriamo Della glowstone 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 Ehi Ciao creeper Come stai Bene Più o meno Anche tu Altro creeper E Meno male che Quella cosa Dove funzionare Da anti creeper Invece ci sono Certo di farci delle torce Che sono tipo Strength Sono interdiction Presumo Torch Eccole qua Le interdiction Ah ma sono Una cagata A farle Va bene Le faremo Ottimo Ehm Mottiamoci un attimo La roba che non ci interessa Tipo questa non ci serve Questa no Questa no Questa no Questa no Ehm No Diamante si Ehm Glowstone Glowstone Andiamo alla ricerca di glowstone Dai Veloce Dov'è la mia glowstone Dov'è la mia glowstone Dove l'hanno presa Quattro Ok Ottimo Ehm Quindi Tutto dovrebbe essere pronto Per funzionare al momento Speriamo che sia così Ehm Deveva essere cresciuta anche l'erba Quindi lo spero Perché se no In caso contrario Non non Ehm Mi dovrebbe far nulla Ora controlliamo Basta entrareci dentro Senza problemi R Bam Ucciso un colpo GG Perché la nostra Cosa non funzionava Dettagli Ok Ehm Sì è cresciuto qua Vedete Ok ottimo Ehm Quindi 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 Ehm Un transpuser Ehm Non ci serve Ah un bugio C'è un transpuser Non ci serve un altro Però Ehm Noi lo mettiamo Per completezza qua Ottimo Ehm Quindi Lui prenderà la roba Prenderà E dobbiamo un attimo Ehm Prendere quel blocco Va bene Ora lo prendiamo da Qualsiasi altra parte Ottimo Benissimo Scendiamo giù Ehm Quindi Andrà così Ehm Qua ci devo mettere Dov'è la mia glowstone? L'ho presa Ne sono sicuro Dai Dove l'ho messa La glowstone? Assurdo Vabbè L'ho rimessa lì dentro Sono stupido Va bene Va bene Sono stupido ragazzi Potete dire che sono stupido Dov'è Dov'è la mia glowstone? È scomparsa Dov'è rivedere l'episodio Per scoprire dove l'ho messa Perché mi sembra strano Che Scomparsa così a random Abbastanza Quattro di questi L'ho messa qua No Qua non c'è nemmeno Ah qua vabbè Abbiamo quattro glowstone Facciamo così Ok Glowstone A posto Vi giuro Non so dove le ho messe Boh Vabbè Sono scomparse Nell'universo Misterioso Di qualsiasi Mondo parallelo Va bene A posto Così Così Ottimo Ora però Bisognerà soltanto vedere Dov'è Che sono posizionate Le mie cose Aia Allora Uno è qua Benissimo Poi L'altro è qua Ottimo proprio Sono messi in un punto Bellissimo Ok uno qua E uno qua Vorremmo scendere Questo qua E arriverà fino là Ok ottimo Quindi Ci serve adesso Di mettere Questi quattro Transfuser In questa maniera Ah devo girarli Comunque Va bene Solo quello è stronzo Se hai girato così Va Ok ottimo Facciamo così Facciamo E Torniamo Dai scendi Ok Quindi 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 Abbiamo detto Uno di qua Ottimo Poi Uno di qua Quindi dovrebbe ricevere Abbastanza energia Anche da questo blocco Di qua Facciamolo un po' più alto Giusto eh Ok Quindi così 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 Ottimo E L'altro dov'era? Era Uno due Tre E quattro Ah questi tre Perché le altre sono Cioè Dove era l'altro Qua sotto Se non sbaglio Giusto Speriamo di farcela Il tema L'abbiamo preso Sì Ok ottimo Magari però Riusciamo a salire Ok ottimo Ok Quindi Dovrebbe arrivare L'energia dappertutto Vediamo se Facciamo questi pneumatic tube Probabilmente no Quindi Così Così Lì dovrò forza scendere Non posso fare altro Anche qui Va bene Comunque Lo facciamo così Completiamo nella prossima puntata Perché al momento Siamo a oltre 30 minuti Quindi non voglio Superare lo standard Dei 30 minuti Quindi ragazzi Ci vediamo nel prossimo episodio In cui vi mostrerò Come funzionerà tutto questo E Da le secondate Sì è tutto Ciao a tutti ragazzi